Signore e signori, ecco Solange. Solange, mi dici una cosa che ti fa arrabbiare? Mio fratello. Tu, fratello? Che ti fai? Dispetti? Sì. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Bea, mi dici una cosa che ti rende triste? Come ti sei fatta questa feritina, questo cerottino? Mio fratello mi ha gaffiato. Uh, allora sei diventata triste? Allora ecco una cosa che ti rende triste. Il graffio di tuo fratello, vero? Ma poi avete fatto pace? Sì. Menomale. E il muro. Aspetta, prima ti devo fare la domanda. Tira su la testa, che se no ti viene la gobba. Ma è in alto? Ma è in alto? Oh, bravo. Nicolo, una cosa che ti fa paura? E il muro. Oh, io aiuto, che paura! Viola, senti, quando sei arrabbiata, cos'è che ti fa calmare? Andare a letto e abbracciare la mamma e il mio peluche. Oh, che bello. Come si chiama il tuo peluche? Pasquale? No, varie. Anche se è un coniglietto. È un coniglietto. Ecco qua, il meglio di tutti. Senti poi, Ettore, una cosa che ti rende allegro? È quando canto. E cosa canti? Cantaci una canzone, facci sentire, dai. Viva la canta. E vai, e vai, così mi piace. Viva la canta. 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 Grazie a tutti.